Una vittoria in finale è sempre straordinaria, ma vincere così quanto vale? Mamma mia, non ti posso neanche spiegare. Prima perché siamo arrivati due volte qua, abbiamo preso 3-0 secco, e oggi io ero convinto che potevamo farcela. Abbiamo preso i primi 2-6 e dopo il terzo-6 siamo entrati in campo convinti che potevamo farcela perché abbiamo giocato molto bene. Dopo abbiamo vinto il terzo-6, abbiamo vinto il quarto e il quinto io ho detto loro dobbiamo solo giocare come squadra, noi siamo una squadra, siamo una bella squadra, siamo di una famiglia, quindi questo ce lo meritiamo. Abbiamo arrivato qui, mancano 10 minuti di partita e dobbiamo lasciare il cuore qui dentro, loro l'hanno fatto e questo mi dà tanto piacere per quello che hanno fatto loro. Grazie mille, ciao!